signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale con questa settimana iniziamo in realtà il mese degli speciali perché a cominciare da questa settimana in cui abbiamo lo speciale per il compleanno del canale settimana prossima vedrete lo speciale dei racconti del terrore di halloween con i contenuti della community e settimana dopo ancora ammettendo che io sia sopravvissuto all'evento dovrebbe esserci lo speciale per il lucca comics 2023 sì quello durante il quale tutti quelli che hanno fatto l'ordine dell'edizione speciale del libro scrivi la tua avventura potranno venire a ritirarla a mano dovrebbero già esservi arrivati tutti i dettagli per mail se no nel caso io come tutte le volte ci vado dedicherò il venerdì ai vari incontri con i fan mal che vada ve la consegnerò a mano io direttamente lì scrivetemi nel caso volete siete lì il venerdì e vorrete che ci arrangiamo in questo modo quelli che sono arrivati relativamente da poco sul canale poi mentre adesso si stanno domandando perché lo speciale per la settima stagione stia avvenendo trasmesso dopo due mesi dall'inizio dell'ottava presto detto il canale master kai pubblicò il suo primo video il 23 ottobre del 2016 quindi in realtà questa settimana il canale fa il suo compleanno questa è tecnicamente l'ultimo video del settimo anno dalla nascita del canale e quello che vedrete la settimana prossima è il reale primo video dell'ottavo anno sì perché a me piace fare le cose in maniera inutilmente complicata dopo tutto sono un master trad che cosa vi aspettavate ma non perdiamo altro tempo perché quest'anno abbiamo un bel po di cose da riassumere e celebrare per la settima stagione quindi andiamo direttamente con le celebrazioni quest'anno abbiamo avuto una stagione veramente spettacolare probabilmente quella con il maggior numero di novità e iniziative nell'intera storia del canale praticamente l'intera stagione è stata dedicata a esplorare il concetto di mega dungeon termine che adesso dovrebbe essere diventato familiare a tutti partendo dalle cose più banali cioè cosa sia e cosa serva un mega dungeon fino ad arrivare a quello che è il progetto per ora più complesso che il canale abbia portato a termine sto ovviamente parlando di tutti i video che hanno formato il blocco del progetto mega riassunto del mega dungeon che ha portato i vari membri della community del master cae praticamente a scrivere collettivamente un'ambientazione che poi voi avete potuto vedere nei video appunto del mega riassunto del mega dungeon ve li lascio linkati lì in alto nel caso non li avete recuperati ma che ha poi anche portato al questa estate alla serie di video su appunto come scrivere un'ambientazione collaborativa che in pratica è il riassunto di quello che abbiamo fatto per creare il mega dungeon della community e con la spiegazione mia passo passo come fare come master per integrare questo genere di attività all'interno del proprio lavoro di master al tavolo ovviamente per quanto io me ne prenda il merito indiscriminatamente nella realtà tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile se non per il contributo effettivo della community del master cae quindi sfrutto l'occasione di questo video per ringraziarli pubblicamente formalmente molti dei progetti che facciamo qua non sarebbero possibile se non fosse per loro community che tra l'altro nell'ultimo anno è cresciuta notevolmente nonostante questo sia solo il secondo anno in cui esiste effettivamente un social di ritrovo del master cae abbiamo superato i 1200 iscritti sul canale adesso il video non è in tempo reale quindi non so dirvi la cifra esatta la metterò qui intorno a qualche parte e abbiamo anche più di 50 iscritti tra telegram e il server di discord che poi sono i luoghi dove appunto ci raduniamo e dove nascono queste idee bizzarre che portano i video collaborativi del canale nel caso siate interessati ma non siete ancora all'interno in descrizione del video trovate i link per entrare nei due gruppi social vi aspettiamo anche perché in quei gruppi partono varie iniziative tra cui un'altra delle novità di quest'anno che quello è stato nominato il salotto del master cae e la riunione mensile e facciamo per discutere di vari argomenti proposte di video discorsi generici in realtà su quello che è il masteraggio e soprattutto infamare il master etilico e quello che facciamo lì dentro tra l'altro quest'anno è stato quello con più speciali in assoluto alcuni voluti come il mio primo viaggio ai modena play insieme al master etilico e il resto della banda altri che invece avrei veramente preferito non dover fare come tutta la serie dedicata alle modifiche che la asbro voleva fare allo gl 1.0 fortunatamente per questa volta la cosa è stata scampata e la questione rientrata ma quello diventerà un racconto cautelare per le prossime generazioni giocatori di ruolo probabilmente anche se tutta quella questione ha portato alla mia collaborazione appunto per uno speciale con mauro longo che poi si è sviluppato in un libro che abbiamo scritto assieme quello di cui parlavo è l'introduzione del video che è ufficialmente il primo oggetto di merchandise del canale del master car tra l'altro dato che questo video serve a glorificare me stesso sono molto orgoglioso del fatto che la prima tiratura edizione speciale da 100 copie è andata finita nell'arco di in neanche due settimane quest'estate e le prime copie verranno fisicamente distribuite a lucca di quest'anno poi per chi fosse interessato tra qualche mese dovremmo metterlo come print on demand su amazon ma ne parleremo più avanti piuttosto faremo un intero video dedicato a quello normalmente la tradizione vorrebbe che io adesso finito di elogiare me stesso cominciasse a rispondere alle vostre domande che mi sono arrivate o almeno questo è quello che abbiamo fatto nei sei speciali precedenti quest'anno però voglio fare uno strappo alla regola perché già ci sono stati tanti contributi alla community accavallate quindi non mi sembrava il caso di chiedere altre domande ma anche perché in realtà quest'estate era arrivata una domanda specifica che in realtà era già arrivata più volte a cui voglio sfruttare l'occasione per rispondere in una maniera adeguata cioè com'è che nasce un video del master cae in effetti è una domanda più che legittima quindi prendiamoci questa seconda parte del video per rispondere proprio a questo e vedere un po' di dietro le quinte dopo tutto questo è un video di celebrazione del canale è un video del master cae nasce qui questa è la mia postazione di montaggio questa baracca è vecchia i dieci anni ma continua a tirare avanti con una 750 quindi portategli rispetto dove io faccio la ricerca dei contenuti di quello che deve poi apparire nel video e tramite tutti i canali social sento anche cosa il pubblico abbia da dire in realtà negli ultimi due anni da quando sono nati i social del master cae sono stati effettivamente un grande contributo perché uno dei problemi che ho sempre avuto è che per decidere qual era l'argomento adatto a un video io mi basavo sulle mie esperienze il fatto è che quello che per me era importante da spiegare e quello che invece per me era scontato e quindi non necessitava di essere spiegato era appunto del tutto arbitrario quindi finiva che facevo dei video che magari erano inutili per la maggior parte delle persone e poi saltavo argomenti che invece a molti sarebbero interessati adesso questo mi permette di avere una visione più chiara e quindi da quando esistono i social avete visto anche le scene più interessanti e anche i progetti più grossi come tutto quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione sul mega dungeon tra l'altro ogni mese facciamo una riunione di tutti gli utenti del master cae dove le più grandi menti del gioco il ruolo italiano si radunano per discutere sui massimi sistemi del gioco di ruolo se volete salutare dire qualcosa eh vabbè essendo eudipro quindi fai uno screen della chat vocale e mettilo nel video sto già registrando non vi preoccupate a posto allora metti anche questo nel video grande successo di pubblico ovviamente poi dietro ogni video c'è tutta una ricerca dei contenuti io devo passare diverse ore su internet per trovare quello che effettivamente mi serve perché non posso basarmi solamente sui miei ricordi personali quindi soprattutto quando si parla di date o avvenimenti storici devo andare a ricontrollare tutto e poi comunque molto spesso vado a vedere che effettivamente non ci sia già del materiale in cui magari quello di cui voglio parlare è approfondito perché potrei trovare cose che effettivamente neanche io so io molte cose che ho imparato negli ultimi anni le ho imparate appunto facendo ricerca per portare nuovi contenuti sul canale poi una volta che tutto il materiale che mi serviva all'ora adunato è il momento di scriverlo e qui vi posso far vedere questo è come appare un video del Master Kai tutto il testo che è stato scritto e che poi io fondamentalmente non lo leggo ma è quello a cui faccio riferimento mentre il video viene girato nelle parti che voi non vedete io mi abbasso leggo un paio di righe poi le ripeto più o meno alla telecamera anche se devo ammettere che delle volte poi faccio dei cambiamenti in corso d'opera che portano un sacco di problemi a me e ovviamente arriva poi il momento di registrare ovviamente la cosa non viene fatta in presa diretta perché l'audio viene registrato a parte quindi fintanto che non lo si fa partire io non posso dire signori buongiorno e benvenuti sul canale del Master Kai io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale e adesso che le cose sono state registrate si torna qui alla postazione di montaggio dove il video viene assemblato e qui arriva quella che è la parte noiosa diciamo perché bisogna fisicamente mettersi qui a lavorare sul video e da il filmato come è stato acquisito bisogna poi passare a lavorarlo per farlo diventare il video che poi voi vedete effettivamente quando guardate una puntata del Master Kai ora non starò qui a fare un video che vi spiega come si realizza un video su tra l'altro questo è Adobe Premiere vecchissimo anche perché sicuramente non è che sono bravo quindi ci sono canali interi dedicati a questo genere di cose vi rimando direttamente a loro però per darvi un'idea del lavoro effettivo che c'è dietro quello che io adesso vado a fare è prendere quello che ho registrato cancellare tutti i blocchi e i saldi che vedete per esempio e dato che questo è un video del Master Kai la risposta a questa domanda è molto più lunga e complessa di quello che potete aspettarvi sigla ecco questo è quello che è stato effettivamente registrato durante il video ovviamente la parte in cui io dico sigla andrà tagliata e qua il video riinizia direttamente da quello che poi vedrete e voi queste parti normalmente non le vedete perché io le taglio ma sì il video comprende molte più immagini di quello che potete aspettarvi come ha detto il Kai del passato però io so che quello che davvero vi interessa sono le animazioni e non dite che non è vero quindi andiamo a dare un'occhiata a come si fanno quelle e adesso io vi farò vedere il processo in maniera estremamente accelerata perché sappiate che ci è voluto praticamente mezz'ora per creare questa animazione che state vedendo venire creata davanti a voi ed è una cosa estremamente minima un'animazione vera di quelle che metto in un video richiedono due o tre ore di lavoro questo per farvi capire perché all'interno dei video le animazioni sono così corte e perché non sono presenti in tutti i video diciamo che è la parte più lunga della lavorazione di un video normalmente ora qua mentre io stavo parlando la cosa è già iniziata io ho aperto Gimp e sto cominciando a scorporare la figura in questo caso ho usato me stesso volevo fare qualcosa di veloce come vedete qua bisogna prendere l'immagine e effettivamente ritagliare il pezzo dell'immagine che serve normalmente voi vedete vari tipi di personaggi fantasy questo è un lavoro estremamente lungo perché deve essere fatto per ognuno dei personaggi che entrano in un'animazione ora io per risparmiare il tempo su questo ho molte immagini già fatte le vedremo tra un po' adesso che l'immagine è stata scorporata viene salvata perché poi ah qua do degli ultimi ritocchi si delle volte il processo richiede varie fasi e adesso prendo quelle che sono i template standard i cerchi che vedete intorno ecco queste sono tutte quelle già fatte che uso c'è una cartella dedicata ai Gianni si ha un'intera cartella dedicata a lui Gianni ora sulla base del template standard che mi serve per fare in modo che tutti i personaggi siano delle stesse dimensioni andiamo a creare il personaggio in questo caso del Master Kai questo è un lavoro di ricerca delle dimensioni corrette per non farlo né troppo grosso né troppo piccolo poi per rendere la cosa un attimo più bella da vedersi invece di mettere solamente il cerchio che facevo all'inizio ritagliamo il cerchio in modo che sembri che l'immagine stia effettivamente uscendo dal riquadro in cui è contenuto ora è una cosa che piace a me non so se effettivamente anche per voi che vedete i video è qualcosa che apprezzate nel caso io continuerò a farlo perché appaga la mia estetica mettiamola così adesso probabilmente è meglio accelerare ancora perché questo è soltanto la prima fase dopo di questa ho dovuto anche integrare il microfono che si vede sullo sfondo e facciamo vedere semplicemente un pezzo anche in questo caso ritagliato la base del microfono per poi farla mettere in modo che risulti sopra l'immagine e non al di sotto tutte le animazioni si basano su un concetto di vari livelli di immagini che scorrono le une sulle altre e adesso creiamo la nuova cartella e vediamo di creare l'animazione vera e propria abbiamo il nostro sfondo, il nostro personaggio e quindi cominciamo a metterli ognuna sul suo livello ecco adesso bisogna trovare il dimensionamento corretto in modo che il personaggio non sia né troppo grosso né troppo piccolo e poi mettere in proporzione gli oggetti che dovranno stare davanti questo lo vedete quando i personaggi passano dietro un sasso passano dietro l'uno con l'altro ok adesso diamogli anche un oggetto da tenere in mano che ovviamente è il mio libro perché non fare un po' di autopromozione e normalmente avete i personaggi che estraggono oggetti ruotano le armi anche questo viene fatto singolarmente andando a muovere in maniera vettoriale il singolo oggetto e poi quando tutto è stato messo assieme questa è l'animazione come rimane adesso non bisogna fare altro che prendere tutto quello che è girato viene esportato sì perché questi lavori sono estremamente pesanti per la CPU quindi renderizzarli insieme al resto del video richiederebbe troppo tempo quindi le animazioni io le animo singolarmente e poi una volta che sono state fatte vengono reimportate all'interno del video come filmati a se stanti a volte su cui vengono fatte ulteriori animazioni se i livelli erano troppi e come dicevo un processo durato mezz'ora per fare un'animazione che in realtà dura poi pochi secondi ed è estremamente banale per gli standard del canale bene una volta che tutto il video è stato messo a posto è arrivato il momento di renderlo un video vero e proprio quindi ovviamente la prima cosa da fare è mettere nella corretta sequenza le scene bene questa è una cosa che mi è stata chiesta più volte cioè perché tu stacchi da una telecamera all'altra mentre fai le cose ma è relativamente semplice come cosa diciamo io sto facendo il video una volta che il gioco è iniziato blocco e poi adesso mi rivolto perché io in realtà non ho due videocamere ne ho solamente una quindi ogni volta che vedete che si sposto in realtà è una parte che è stata registrata o prima o dopo e poi è stata risistemata grazie alla magia del cinema in fase di montaggio sono quelle cose che si scoprono solo facendo questo genere di lavori comunque adesso che il video è nell'ordine corretto quello che bisogna fare è aggiungerci la sigla di testa e la sigla di coda che sono robe che non sto a rifare ogni volta sono già fatte questo sarà un video delle fondamenta del dungeon io ho ancora le sigle quelle iniziali delle prima stagioni del canale questa è come appare la sigla quando non ci sono il resto delle cose quindi qua poi tutto questo blocco qua andrà sul fondo adesso voi vedrete questa sezione in maniera incredibilmente accelerata e questo è il tocco finale alcuni mi hanno chiesto perché non uso un green screen semplicemente perché fare così richiede molto meno tempo di lavorazione e non mi impegna molto spazio io comunque non ho uno studio separato dove registro questi video poi ci devo anche abitare teoricamente quello è il mio studio lì dove lavoro probabilmente questo pezzo lo riconoscete in descrizione trovate i link al server di discord al gruppo telegram dove si riunisce il resto della community dove ci si confronta tra di noi appunto per fare più esperienza io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video e in questo momento il video viene stoppato e parte la musichetta bene spero che questo risponda un po' ai vostri dubbi o perlomeno vi abbia fatto capire come funziona la baracca qui nel caso comunque abbiate delle domande e volete comunque fare scrivetemi dei commenti qui sotto non risponderò a voce nel video ma posso sempre rispondere per iscritto io adesso devo andare a prepararmi per lo speciale di Halloween devo anche andare a preparare le valigie per Luca poi vedrete come è andata tra un paio di settimane per il resto come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete la velocità crescita del canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i social dove metto io le notifiche manualmente ogni volta che esce un video per il resto io sono il Master Kai e noi ci vediamo settimana prossima con il primo video dell'ottava stagione grazie a tutti grazie a tutti